Un discorso in gran parte focalizzato sulla ricetta da seguire per rianimare un'economia che non si è ancora ripresa, quello di Barack Obama sullo Stato dell'Unione. Attirare investimenti, preparare i giovani a cogliere le nuove opportunità, assicurare retribuzioni coerenti con il tipo di lavoro e con l'intensità dell'impegno, tenere sotto controllo il deficit, sono questi gli obiettivi di una serie di proposte avanzate sulle quali Obama chiede un atteggiamento costruttivo. Il Presidente americano lancia poi una prima proposta concreta, alzare il salario minimo garantito da 7,15 dollari a 9 dollari l'ora. Un provvedimento semplice dice che migliorerebbe la vita di milioni di lavoratori, dalla creazione di posti di lavoro alla riduzione del deficit con parole toccanti e cariche di mozione, Obama ha infine lanciato un invito bipartisan ad approvare velocemente una legge per il controllo delle armi.